Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come dal titolo farò due esercizi sui dielettrici. Questi esercizi vengono svolte nell'esercitazione di Ingegneria Fisica al Palimini e prima di iniziare, per chi fosse interessato a dare le ripetizioni online a qualunque livello scolastico per recupero dei biti, analisi 1, analisi 2, fisica 1, insomma, o a qualunque argomento delle superiori di chimica, matematica e fisica mi può contattare sia su Instagram che tramite mail. Allora, iniziamo il primo esercizio. Nel primo esercizio abbiamo una barra sottile di dielettrico con sezione A che si stende lungo l'asse X, la 0 ad L, polarizzata con vettore P, che però dipende soltanto puramente dalla coordinata X, determinare sigma P e ro P e determinare la carica totale nel dielettrico e giustificare la risposta, quindi la carica di polarizzazione. Chiamiamola così. Bene, io l'ho già schematizzato il tutto, quindi abbiamo una sbarra, sezione alla fine cilindrica, con sezione A. Questo in rosso è l'asse X, quindi partiamo da 0 fino ad L. abbiamo le normali, quindi la normale rispetto a questa sezione è U di X, rispetto a questa sezione sarà meno U di X e poi le due normali lungo la superficie laterale. Il vettore P, polarizzazione, è all'interno del dielettrico, quindi andiamo a risolvere il problema. Allora, sigma P per definizione del prodotto scalare tra il vettore P ed N, quindi in questo caso dobbiamo andare a vedere quando X è uguale a 0, X è uguale a L e lungo la superficie laterale. Quindi, sigma P sarà P, il vettore centrato in 0, per N. A 0 cosa abbiamo? Allora, sostituendo in questa espressione analitica, avremmo solo B, che moltiplica meno U di X, perché è il versore lungo questa sezione, per il versore U di X, che è la normale. Scusate, quindi qua sarebbe più, quindi la normale in questo caso sarebbe meno. Quindi, il prodotto dei due versori fa 1, col meno meno 1, quindi meno B. Con X uguale ad L avremmo sigma P con P centrato in L per N, quindi sarà uguale alla fine a L quadro più B, perché il prodotto scalare tra il versore sia della normale che del vettore P è uguale a 1, insieme ad entrambi dello stesso segno. Lungo la superficie laterale, invece, abbiamo che il vettore P è parallelo alla normale N, lo vediamo anche da grafico, in effetti N è di qua, lungo l'asse Y e P lungo l'asse X, quindi angolo di 90 gradi, per definizione del prodotto scalare, è nullo. Quindi abbiamo sigma P uguale a 0. Bene, andiamo a calcularci il Rho P. Questa cos'è? Per definizione, meno la divergenza del vettore P, quindi per definizione sarà meno la derivata parziale di P rispetto ad X, più la derivata parziale di P rispetto ad Y, più la derivata parziale di P rispetto a Z. Questi due sono pari a 0, perché P dipende unicamente da X, quindi questo sarà meno 2X. Facciamo delle derivate. Allora, la carica del dielettrico, quindi di polarizzazione, la possiamo vedere come la somma dell'integrale tra sigma P e D di S, più l'integrale di Rho P e di D di V. Andiamo un attimino a capire. Dovremmo scomporre in realtà questo integrale lungo la superficie laterale, e nelle superfici di base, le due superfici di base, e la superficie laterale. Abbiamo già fatto, quindi sarà meno B per A, perché la sezione è costante, più L quadro più B per A, più 0, poiché è la superficie laterale, sigma P nella superficie laterale è uguale a 0, più l'integrale, dove di meno 2 a X, e poi D di V lo possiamo vedere come D di X per A, perché è l'unica cosa che varia tra chi? Tra 0 ed L. Poi A rimane costante, quindi sarà D di X per A. Quindi l'integrale non dipende più da un D di V, un infinitesimo volume, ma bensì per una infinitesima variazione di lunghezza, quindi in questo caso rispetto ad X. Dicendo il tutto sarà meno B per A più AL quadro A più BA, meno 2 a piccolo a grande, X quadro frotto 2, 3, 0 ed L. Quindi questo e questo si semplifica, il 2 col 2 si semplifica, poi rimane AL quadro A, meno A a grande L quadro, e quindi questo sarà 0, che è proprio la risposta. Il secondo esercizio invece ci dice una superficie, una sfera di materiale di elettrico con permettibità epsilon e raggio R, uniformemente distribuita a una carica Q, poi la superficie esterna della sfera è collegata a terra, calcolare l'andamento del campo elettrico del potenziale dentro e fuori la sfera, determinare sigma P, R o P. Quindi l'ho già schematizzato il tutto, questo sarebbe il disegno, andiamo effettivamente a calcolare il tutto. Allora, cosa ci serve? Ci serve applicare Gauss con D, col vettore D. Quindi sarebbe, applicando Gauss, sarebbe sigma, scusate, no, scusate, sarebbe quindi il flusso, abbiamo visto che sarebbe uguale alle cariche interne, se probabilmente prendiamo il vettore D, quindi il tutto sarà, per il teorema di Gauss, poi per definizione cosa sarà? Il vettore D per N per DDS, quindi il tutto sarà 4πR quadro per D. Poi le cariche interne, lo possiamo vedere come il prodotto tra la densità di carica Rho per il volume, quindi questo sarà Rho 4 terzi pi greco R cubo. Di conseguenza, D, cosa sarà? D sarà Rho, e sarà 4πR quadro D uguale a Rho 4 fratto 3 pi greco R cubo. Quindi D sarà Rho terzi per R. Sostituendo cos'è Rho? Rho per definizione è la carica Q fratto 4π, scusate, 4 terzi pi greco R della sfera R grande al cubo. Quindi il tutto sarà, alla fine, Q fratto 4πR grande al cubo per R piccolo in U di R. Questo all'interno della sfera. Quindi diciamo che il vettore D sarà nient'altro che Q fratto 4πR, 4πR cubo per R per U di R, quando? Quando R piccolo è più grande, è più piccolo del raggio della sfera, nullo fuori, ovviamente. Allora, il vettore D per definizione è nient'altro che il prodotto tra l'epsilon ed E, campo elettrico. Di conseguenza, il campo elettrico lo abbiamo a gratis facendo la formula inversa. Infatti, il vettore E sarà D fratto ε, quando R è minore di R, nullo, quando R è maggiore di R grande. Il vettore polarizzazione P, invece, è il prodotto tra la sussettività chi per il vettore E, cioè ε meno ε0 per E. Di conseguenza, anche qua il vettore P sarà ε meno ε0 per E, con R minore del raggio della sfera, nullo, altrimenti fuori. Andiamo a calcolare il sigma P, che sarà il prodotto scalare tra n e il vettore polarizzazione P, cioè ε meno ε0 per E di U di R, perché è radiale, per U di R. Quindi questo sarà ε meno ε0 per la quantità scalare del campo elettrico. Sigma P, se uno andasse a fare la derivata rispetto ad R, non è nient'altro che meno tre quarti ε meno ε0 π ε per Q. Le derivate dovrebbero essere estese come una sfera rispetto a π rispetto a R rispetto a φ e rispetto a φ e rispetto all'angolo θ. Ma in questo caso non c'è bisogno, le coordinate cilindriche vanno bene, quindi... scusate, non dipendono dagli angoli, solo dalla componente radiale, quindi è bene così. Andiamo a vedere appunto il calcolo del potenziale, il potenziale come abbiamo visto come meno l'integrale lungo una curva di E prodotto scalare di dl, poniamo v di R con il raggio uguale a 0, quindi v di R piccolo meno v di R grande è uguale a meno l'integrale tra R grande e R piccolo del campo elettrico, quindi questa è la sua formula. Facendo tutti i conti, alla fine si arriva a meno Q fratto 8 pi greco epsilon R cubo di R piccolo al quadrato meno R grande al quadrato. Di conseguenza avremmo che v di R poiché v di R grande è posto uguale a 0 per come l'abbiamo definito noi, meno Q 8 pi greco epsilon R cubo R piccolo al quadrato meno R alla seconda, quando R piccolo è minore del raggio, nulla altrimenti. E quindi così abbiamo risolto l'esercizio. Per qualsiasi curiosità, qualsiasi dubbio fatelo sapere nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.